È grande l'impegno anche della Croce Rossa italiana per quel che riguarda gli aiuti che vengono forniti alle persone in difficoltà, agli indigenti. Ecco, alla Spezia, quante sono le persone che si rivolgono a voi? Sono tante e ci sembra anche di vedere che in questi ultimi anni siano aumentate, certamente. Diciamo che noi seguiamo almeno 200 nuclei familiari nel nostro centro di distribuzione viveri alimentare in Via Bologna e poi per quello che riguarda il servizio che noi attuiamo nei confronti dei senza fissa dimora, diciamo che il numero varia un po' a seconda della stagione aumentano un pochino d'inverno, diciamo sui 60-70. Diciamo che questi sono i numeri più evidenti. Poi naturalmente c'è un afflusso di parecchie persone che non contiamo quando, per esempio, il sabato in Piazza del Mercato, con l'attività del Buon Mercato, che è quella che, come dire, fa parte delle attività del tavolo delle povertà a cui noi partecipiamo in questo modo, gli esercenti, le persone che vendono ai banchi in Piazza del Mercato molto generosamente lasciano parte delle verdure, di quanto insomma vendono, lo lasciano per le persone indigenti appunto, noi lo raccogliamo e le persone stesse che hanno queste necessità vengono in Piazza del Mercato. Come tanti sono coloro che vengono, dicevo, anche estemporaneamente nel nostro centro di distribuzione in Via Bologna, perché 200 nuclei familiari sì, però diciamo che molto spesso vengono persone nuove che non sono nelle nostre liste o nelle liste che il Comune ci ha comunicato e quindi vediamo insomma un continuo afflusso, devo dire la verità.